Ciao amico di Facebook, buon sabato, anzi Buon sabato dalla Valdrogo, conosci la Valdrogo? No, impassebile, è un posto stupendo, meraviglioso, devi venirci Siamo a San Giacomo Filippo, alta Val San Giacomo, alta alta alta, sali fino a San Giacomo Filippo in Valle Spluga Poi subito a sinistra, prima di entrare in San Giacomo, sali verso Olmo, San Bernardo e poi su, 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 finché arrivi all'imbocco della Valdrogo C'è una sbarra, bisogna avere il pass per entrare, credo sia solo per i consorziati Allora lasci la macchina nei pressi e poi ti incammini Adesso c'è la neve, è bellissimo, secondo me è d'inverno D'estate non ci sono mai venuta, penso che sia molto bello Però d'inverno è una meraviglia E' un po' tardi, quindi è sceso il sole da questa parte E' bello lo stesso E' un posto selvaggio Unico Uno dei più belli in assoluto Della Valle Spluga e secondo me anche della Val Chiavenna Tieni presente che qui non prende Non prende il cellulare Per cui non sei collegato In modo che resti un pochino sconnesso Un po' fuori dal mondo Va tenuto presente per chi vuole fare delle escursioni Magari in solitaria Meglio lasciar detto Da qua si arriva, avanti, avanti, avanti E poi su, fino al Lago del Truzzo Ovviamente da farsi in estate Primavera estate Non certo adesso Ci vorrebbero le ciaspole per andare Comunque noi adesso scendiamo un pochino E andiamo verso le case Ti raccomando Non perdere assolutamente Un giro in Val Drogo E' bellissimo E' un posto unico Spettacolare Immersi nella natura Nella fauna Si sentono gli animali selvatici Qui sono padroni Assoluti Ciao amico di Facebook Buon sabato dalla Val Drogo San Giacomo Filippo Baci 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.